e claro querido gente, querido gente, radio escucha, no? Claro, i televidenti, non sei se non sto escuchando a noi, attraverso di radio delta 92.7, facciamo un nuovo dial? Ho facciamo una escucha e ripetizione da me, la radio margarita online, ho facciamo una mirando, non stiamo via di pagina social facebook, eh? Claro, qua di e plattaforma, non stiamo subiendo la nostra ora qui, claro, www.radiodelta.com o www.radio.margarita online o via di TDS, canal TDS, canal 21, CarriFlex, Bassi La Ciel, toda una plattaforma qui for di qua, offriamo una pagina social facebook, dame? Claro, una parte, non potamos essere, abon, duche, sintonia, ma, chamas, chamas, adagimes, cuore di noz, sintonia, e abon, non stiamo in un programma special, non stiamo in special, un senyora, mi stiamo in seguito, un traiettore di vita, cava, e noi stiamo in seguito, qui ultimamente abbiamo un celebrazion, da casa di nostra amica, Donietta, nostra commerciata, con il neto, che sta conto a noi, e passare la nostra commerciata, la informazione che stiamo da te, ma mi stiamo, ok, che sta impegnando, i spettare della nostra confe financial, per quanto non si stiamo in seguito, ma il suo immagino dell'altro, e potremo a noi, come spettare la nostra, , ci stiamo in seguito, e come spettare la nostra, ma d'armena, i stiamo in seguito, e le occupano le stiamo in seguito, le stiamo in seguito, e ci stiamo in seguito e ci stiamo in seguito, Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ,... ... 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 ora che il Mahometta è arrivato alla porta il Mahometta è arrivato qui c'era il porta vai e rende qui è il mio amore e rende qui è il mio amore il tempo è non tutto è molto ora che è il mio amore è grande la mia mamma è di come dina sa mi chiesa è criatura qui è tempo è ma cria un'umore di maio in paz e descansi 5 anni passiamo in verena olanda mi chiesa come amica perdendo tino mi chiesa 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 cosa ti passa con te il dottor è bene la figura di suro umano vincorra però va sopra suro umano è in Ulanda suro umano è in corso suro umano è più grande con te però non c'è grande è un'ombra è un'ombra però tal e tal cosa sta passando e non sta perdendo tino e non c'è sanazione e non c'è cura mi chiesa mi chiesa mi chiesa è amica di G quando ti non posso abri quando ti non posso non so però escutami mi chiesa non c'è non c'è la città che è la città che è la città mi chiesa è un'ombra che mi chiesa non c'è un'ombra non c'è un'ombra non c'è un'ombra non c'è un'ombra che non fa in Venezuela lui hanno pedito non c'è un'ombra treza fami lo nuovo non c'è un'ombra ci sono e lei dice sa che c PHIL e sua mamma ad andare a Venezolano. Mi dice quella che è bene e davvero che permettano di andare a Venezolano. Poi c'è Venezolano. Mi dice quella che ci dice? Sì. Fui, qui ci dice. Un Dr. Gregorio Hernandez, qui è grande e più piccolo allora c'è bene lì. Ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Ok, 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 ok. un ser vivo ora la reina sta venendo ora Obama sta venendo manchare soldato, manchare kico con trompeto, da donare un ser vivo è una cosa normale però adorare Obama per sognare a Dio adorare Alexander per sognare a Dio adorare solamente a Dio ando no sistema di papia adorare santo tapone con roba di religione da quere e non sta adorare a Dio non sta santo, non, non noi cattolico non sta adorare a Dio non sta venerare non sta donare honor non è santo di qual per una vita qui nel mondo adorare a Dio tuto su honor e gloria e a viva ma o meno na Dio su agrado ando augur unan a a bai for di esmondo aqui Dio arrecompensana e nome di santo 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 però non ti adorare di santo adorare da solamente a Dio a me maravillamo già tanto a un santo che le devo chung bo convicione come catolico autico autico catolico non si non si deve vedere qui ma si qui sas dors dico non notai manere a quina un opportunidad pa mi papi assin aqui aquí na borrach di pero quizás onde leng entre nansi nantar si no santo con catolo comita cator comita queda pero no tu base explicado di como la notin convicción nascida 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 religione e costumo de creencia religione si a domani lesi del señor que explica a ver que dependiente a me cumbo mayor así dico de religione pasora mi mamá estaba todavía más serio mitad de esa manera que me para un cosa si ya domingo yo tengo dolor de cabeza mi visita mami me tengo dolor de cabeza y voy a misa ok yo tengo dolor de cabeza voy a misa pero voy a dar un stop y fue ya ya doy amig nam mini no arena tendo de cabeza y down away by by no oh well si me así o v mi brasil otro día domingo si si vanno mano bambini fulghe buonan apporto amato avisa città tu cattolico cattolicismo ma diretti 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 vico solo di collo liberi ente ovina cattolico vita cattolico cattolico privata cattolico però non è così che è religione, è così che è costuma, non è così che sia il senso quello. Tocco la religione, sai che seguite in dinamia? Exacto. Ma la maggior parte della gente è catolica. Però è catolica, però che devi riferire. Per quanto riguarda il senso è un paese, ma sì, dico, c'è un'altra cosa che non è. C'è un'altra cosa che c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa profonda. Non è catolica, ma non mi conosce, non mi conosce, ma non mi conosce, ma non mi conosce, ma non mi conosce. Non mi conosce, ma non mi conosce, ma non mi conosce. Se la signora mi chiede, un dato, un lungo, i dettagli, mi chiede di una cosa completamente differente. e il senso è eccezionale. Sì, è catolica o non è? No, non è catolica. E qui non è? Non è catolica, sì. Ma non è catolica, ma non mi conosce. Come astronomci dentro, ma non mi conosce. Un mondo mi conosce. Ma non mi conosce, ma non mi conosce. Quindi, ne questa cosa mi conosce con Atleta allò che ci sono, Ora, San Juan ha battito il Espirito Santo a Baja, e Dio, a Papia di Nubia, mi sanno, e sa che stai bene io, ben estima, scusi. Ora, noi stai battito, ora il pastor stai battito, stai passando lo stesso, solamente il Papa Dio dice che stai bene io, ben estima, però è stai accettato come su io. E il Espiritu Santo con le battito tutto il tempo in che sta a percasseрачandolo. ma prima maniera che mi è patami ora maniera che mi è papà di sà catolico romano però non si sia con Cristo a bati sà con una edad di 30 anni però è baby e i vostri hanno similato Cristo a bati sà con una edad di 30 anni ora con Cristo a bai sèca San Juan per bati sà San Juan dicono no meno per bati sà al contrario dà abo per bati sà quando Cristo a risponde bo tinko bati sà ma sobra esceita per scrivere santa scrittura che mandi lo che ha passato entre San Juan e Cristo da bata parà scrivere capa dà santa scrittura quel cos'è mister so su di però il tempo è di un anno da bata ti un oferecimento e spese di tanto dia di nanziamento del tempo dà mi si da offre estimento con un tempo nostro cattolico tambi è da bata bai offre se di spese con un sacco bati sà nanta pota bai offre sina misa a avanti è costa in la igreja cristiana si si offre si non da po' di se io si offre si 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 però santa scrittura am schimbisa o jesus mister bati sà e momento o diosa indicar e cose sou su de 30 ai e na espirito santo a barra ribadier e adunir e força necessário e tabata team mister como render pela vai passar su 3 anna e moso com su 33 s e se vis não 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 tene significa conosco nos mister se nos maior nanta desea of nostre desea si nos no batizan nunca si nos batizan nunca pagano batizan ventis que mendi algo na tnn pero si no batizan nosotros de religión chico votar pero se notar ni ficar culpa sobre jesus sabade saco 30 ai nos me se guarda 30 ai panos raya no lo menos lo consciente lo consciente e consciente de eto o sacudate um baby sacudate baby per aceitam maldad algo malo si boba de chão baby né que nem panela algo malo si boba de chão baby pasodoro bambas a baby e no e bautismo so baby e bombe se segui istrui de religión catornico un protestante ameta batizan baby un protestante ameta batizan baby of manier que ne panosa i say pero e familia protestante sigi instrui e e e e e religión protestante e su bêbêl e tudo cosa e sigi gie non me estrem batizan eu anto cava dar me oats bêbêl 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 a bêbêl 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 cah católico excepcional no sentido no católico bêbêl cah católico cah 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 or come è che, la mia domande è venissata. Sì. Non sieva vedevene, però non sanno così. Ma non è più di tre messe. Come si chiama prevede? Io mi avvicino, ma non. Quando mi sovi da ones e toglie di mio, vedi di e di, mi hanno wollte sapere di quello, ma non so, ma ci sono frente a una persona così, non a parlare con voi, non a parlare con noi. non posso spiegare di essere un atto di condizione, atto di carità, atto di credo più o meno non, un tipo di cattolo cattolo non sta libera non sta libera di noi libertà nostra scoglie lo che noi che ora e si mi che scoglie e catolico a quina e sistema anche quando il sistema con dios appone questo è anche il tema e se volessero con un tema, un altro con la nostra vita e tem un messo che voglia con la nostra vita dei un programma qui da un'emocchia speciale qui è tutto nuovo